Ecco, lo sapevo, stanno ancora dormendo, guarda questo, e nonno, senti come l'ursa, adesso li sistemo io, sveglia, forza, gioca le brande, avanti, sono le registrazioni, sono le 5 e me, avevi detto alle 6, non mi interessa, siamo in ritardo con le registrazioni, e sveglia quei due lì, che sono sempre in ritardo, non sono mai pronti, ma sono pronti, sono, vai, prova Biff, ti dicevo Ragazzi, pronti, 1, 2, 3, 4! Ragazzi